Beautiful, anticipazioni USA, Opie e Liam, ritorno di fiamma. Le anticipazioni americane di Beautiful svelano, che Liam sarà il personaggio principale delle puntate del 2018. Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su Beautiful, la sua opera americana, che ha appena annunciato il ritorno di Opie Logan. Gli ultimi spoiler rivelano che Liam Spencer sarà il protagonista delle puntate americane del 2018, con clamorosi colpi di scena. Ma andiamo a svelare cosa accadrà, continuando a leggere qui sotto Anticipazioni Beautiful, Liam scopre il tradimento di Steffi. Le anticipazioni delle nuove puntate americane di Beautiful, la sua opera in onda da luned, al venerd, su canale 5, rivelano che succederanno entusiasmanti colpi di scena. Dalle ultime novità si evince, Killian Spencer sarà l'assoluto protagonista degli appuntamenti trasmessi nei primi mesi del 2018. Infatti il marito di Steffi catturerà l'attenzione di tutte le donne, tanto da diventare un incallito Don Giovanni, intanto il suo matrimonio procederà a gonfie vele, fino a quando scoprirà di aspettare un figlio dalla moglie. Come anticipato Steffi aveva avuto un tresca clandestina con Bill per poi pentirsi e tornare dal legittimo marito, ma ecco arrivare il colpo di scena, Steffi si sottoporrà al test del DNA per scoprire la paternità del bambino, che attende, mentre Liam scoprirà che quest'ultima l'aveva tradito con suo padre. Questa rivelazione metterà in discussione la relazione tra Steffi e Liam a pochi mesi dalla nascita del figlio Beautiful, spoiler usa, Opeo Sully, che ruberà il cuore di Liam, le anticipazioni delle puntate americane di Bold and Beautiful svelano, che Opeo Gun tornerà a Los Angeles per riprendere il posto tra i Forrester, mentre il figlio di Bill penserà davvero di chiedere il divorzio dalla moglie tradittrice. Dalle ultime novità si apprende che Opeo scoprirà che Liam si era avvicinato pericolosamente a Sully Spectra, tanto da averla baciata sotto le macerie della casa di moda degli Spectra. Inoltre ficchierà il naso nel delicato minaggio matrimoniale tra Steffi ed il consorte, tanto da ipotizzare un loro ritorno di fiamma. Purtroppo Sully dimostrerà di non mollare facilmente la presa, tanto da sfidare Opeo, qualora il matrimonio tra Steffi e Liam andasse a Rotoli. Possiamo anticipare che il più fortunato della stagione 2018 sarà Willard, che continuerà ad avere Katie Logan, tanto da presagire un lieto fine, sebbene l'arrivo dell'ex moglie Opeo per altre notizie e anticipazioni su Beautiful, vi basterà cliccare il tasto Sully, sotto il video ed accanto al nome dell'autore Beautiful Anticipazioni Serie TV. Grazie a tutti.